Forza ed evita azzardi. Si propone in mezzo. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Neymar cercherà di sfruttare al meglio questa occasione e questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Neymar! Un gol! Conclusione strepitosa! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Sono già scappati via a versare in difficoltà. Una traiettoria strepitosa. Preparati il pallone.